Ho partito pensando di dover fare giustizia. Sì, insomma, più che altro volevo fare giustizia per me. Camilla, attirarsi un bambino non è uno scherzo. Te ne sei resa conto anche tu che non ne hai ancora uno, figuriamoci io che ne ho visti nascere tre. E non mi sentivo mica pronto. Ma infatti io sono l'ultima che può abbesimarti. Però io penso che questa cosa noi dobbiamo farla. Sempre se Gemma è ancora d'accordo. Siete voi ragazzi e siamo noi quelli che dobbiamo aspettarvi. Abbiamo esperienza e abbiamo sempre meno da fare. E poi c'è la cosa più bella. E sarebbe? Chi ci va? Intendiamoci, crescervi è sempre un casino. Però si accumula un sacco di materiale per ricattarvi quando siete cresciuti. Ora, io di questo materiale ne ho poco con te. Per cui quando tu ti arrabbi e mi gridi in faccia con le cose o mi tratti come l'ultimo zerbino della terra io che posso fare. Non ti posso mica ricattare col senso di colpa perché non ci sono stato. Però questa cosa con tuo figlio non accadrà. perché ne avrò moltissimo di quel materiale. Perché non mi sono perso nemmeno un attimo della sua vita.